Scusa, scusa, scusa! Che cosa fai per avere questa Lamborghini? Ma guarda... Criptovalute! No, che criptovalute! Hai un e-commerce? No, guarda, mettilo via! Ti faccio vedere! Allora, basta che tu con questo... Come con questo? Con questo, vai! Quadrato, triangolo, cerchio X, destra, sinistra, L1, R2! Hai visto? Provaci e fammi sapere! Grazie! Ciao! Ciao! Scusa, ok, allora, era quadrato, triangolo, cerchio su, giù, destra, sinistra, R1, R2!